Sapevate che la mummia sta per tornare? Il film super avventuroso degli anni 2000 con il simpatico Brandon Fraser è stato riportato in vita Ma al posto dell'attore con la mandibola più incredibile del West Vedremo il personaggio più basso ma comunque più bello degli ultimi 30 anni Il re delle missioni impossibili Tom Cruise È notizia del giorno che le riprese del reboot remake sono iniziate Ed arrivano immediate le prime foto da Oxford, Inghilterra Dove si stanno girando le prime scene La bella bionda in compagnia del nostro Tom è Annabelle Wallace Attrice britannica famosa per aver interpretato Jane Seymour nei Tudors È anche stata la protagonista di Annabelle, spaventoso spin-off dell'acclamato The Conjuring E secondo voi è un caso che l'attrice abbia lo stesso nome del film? Poteri forti? Scie chimiche? Ci stanno osservando? Ma tornando a noi, sulla trama non si sa ancora nulla L'unica cosa certa è che il film sarà ambientato ai giorni nostri E che il regista è Alex Kurtzman Produttore tra gli altri di Star Trek, Amazing Spider-Man 2 O Ammazzin' Spider-Man 2 come direbbe Gabriel Garco E Watchmen oltre a Xena e Hercules, famose serie degli anni 90 Comunque noi ci chiediamo, siamo sicuri di volere un reboot remake della mummia? Gli originali erano davvero magici e sono rimasti nel cuore di milioni di fan La gente infatti ancora si chiede che fine abbia fatto Brandon Fraser Di nuovo, poteri forti? Adam Kadmon? La mummia uscirà nelle sale americane il 9 giugno del 2017 Quindi abbiamo ancora parecchio tempo per decidere se ci piaccia o no tutto questo Vi ricordo di scaricare la nostra app Screen Week TV E di visitare la nostra pagina Facebook Screen Week.it Io vi saluto, sono Tico E ricordate, se fa caldo all'ombra, mettiti al sole Ciao!